Musica Arriva l'estate, tempo di vacanze e viaggi e torna con lei anche la campagna e con noi parti sicuro che CNA e Confartigianato sostengono da anni. L'iniziativa da giugno a fine agosto offre un check-up gratuito nelle 70 officine che aderiscono alla campagna. Il servizio si svolge innanzitutto tramite un'informazione da parte degli organi di categoria e qui invito tutti a recarsi presso i siti www.cna.arezzo.it e www.artigianialezzo.it dove troveranno l'elenco completo delle officine aderenti al progetto e dove verranno accolti per fare i controlli del caso. Essenzialmente i controlli sono tutta una serie di controlli legati alla sicurezza e alla essenziale della macchina quindi i livelli, le condizioni dei pneumatici, freni, spazio letergi cristallo, luci, tutto quello che è fondamentale nell'avventura e anche fondamentale ondevitare dei guasti che possono rovinare le vacanze. Al di là dei controlli e alle automobili ci sono anche dei consigli per un viaggio sicuro? Io dico sempre sicuramente programmare il viaggio, programmare anche delle soste nel caso in cui il viaggio interessi molti chilometri quindi soste frequenti, tenere a bordo un paio di bottigliette d'acqua, due biscotti e poi ovviamente guidare in condizioni psicofisiche perfette quindi evitare pasti abbondanti prima di mangiare evitare io direi assolutamente di bere cinture sempre allacciate per tutti i posti, anche quelli posteriori di coloro che sono a bordo del veicolo, ovviamente le norme di comportamento quindi la velocità, la distanza di sicurezza queste sono cose che però non sono mai superfluo e è sempre bene bere e ricordarli. Grazie